Top and flop dei dati Outel di ieri lunedì 7 ottobre. Oggi ci occupiamo delle piccole reti generaliste free come vengono definite perché c'è da registrare un'ottima performance di la 5, la rete femminile del gruppo media, siete che ieri è stato l'ottavo canale più visto della serata, quindi dietro le sette generaliste si è piazzata la 5 con una commedia un tratto da un romanzo rosa della serie di Rosamund Pilker, quindi davvero un ottimo risultato per la 5 che per noi va al top. Flop invece è una delle dirette concorrenti, ovvero Real Time, canale rete femminile del gruppo Discovery che ieri con vite al limite invece ha raggiunto solo la quindicesima posizione della classifica dei programmi più visti della serata, quindi nella sfida Discovery Mediaset vince Mediaset. Vi ricordiamo che tutti i dati audit e gli ascolti e le curve le trovate sul sito tvzoom.it, noi ci rivediamo domani.